Anche lo sport può aiutare la ricostruzione post-sisma. Per mantenere viva l'attenzione sulla tragedia dell'agosto 2016, organizzeremo dal 2018 la Gran Fondo della Ricostruzione, una manifestazione ciclistica a livello nazionale avente l'obiettivo di far visitare i luoghi toccati dal terremoto alle migliaia di ciclisti che parteciperanno portando un messaggio di speranza e solidarietà alle popolazioni.